Bentornati amici, vedo con piacere che molti di voi si sono ormai abituati a trascorrere un po' di tempo in compagnia delle mie disavventure fotografiche, lo vedo dai commenti e lo vedo dalle domande che mi fate. Voglio rassicurarvi su una cosa, anche oggi a nessun fotografo è stato fatto del male durante la realizzazione di questo video. Bentornati amici, entriamo subito nel vivo di questo nuovo video, ma prima vi vorrei ricordare di iscrivervi a questo canale e di lasciare un like a questo video, così mi date una mano anche a crescere, perché ho appena cominciato e questo canale non so se l'avete notato, ma è piccolo santo cielo. Come vi ho promesso, poche menate e andiamo subito al nocciolo. Oggi vi voglio parlare di uno shooting che ho realizzato per un'azienda che si occupa della produzione di una linea di prodotti cosmetici. Quindi stiamo parlando delle classiche cose, creme, sieri, quindi tubetti, vasetti, oggetti prevalentemente piccoli. Lo scopo dello shooting è quello di realizzare innanzitutto le foto dei prodotti, queste foto vanno sull'e-commerce, sul sito web, successivamente ci viene anche chiesto di realizzare delle grafiche con queste foto, delle grafiche che serviranno per la comunicazione sui social media, quindi attraverso l'utilizzo delle immagini scattate in studio verranno realizzate delle grafiche per i post di Facebook e di Instagram. Cominciamo subito a parlare dello shooting. È uno shooting relativamente semplice, nel senso che è uno still life normalissimo. Noi abbiamo il nostro backdrop bianco che usiamo sempre, è un foglio di carta Arctic White normalissimo che si trova in qualunque negozio di attrezzature fotografiche. Nel nostro caso è FCF perché noi siamo qui di Milano, quindi ci siamo rivolti a quello che ormai è il più grande e forse l'unico negozio di strumentazione fotografica professionale rimasto sul territorio. Ci siamo quindi procurati un backdrop bianco terribilmente grande perché è un 2,70 x 11, l'avevamo preso per un altro shooting in cui dovevamo fotografare dei letti, di cui vi parlerò in un altro video. L'abbiamo riutilizzato per diversi altri shooting perché comunque un foglio di carta di quelle dimensioni da 100€ non si butta via dopo uno shooting, magari si taglia una parte se è stata rovinata, se ci si è camminato sopra, però 11 metri ne è rimasto parecchio con cui lavorare. Quindi backdrop bianco normalissimo fatto su a limbo. Abbiamo utilizzato un set di Flash Godox che me la sento anche di consigliarvi, nel senso che qui non si sta parlando di una strumentazione stellare, si sta parlando di una strumentazione buona, però non abbiamo l'astronave, non abbiamo usato l'astronave per fare le foto che vi farò vedere oggi. Abbiamo usato dei Flash Godox della serie SK, in particolare sono gli SK300 versione 2. Sono delle luci, attenzione, che sulla carta vengono vendute come economiche, nel senso che noi stavamo guardando, stavamo cercando di farci un'idea di preventivo per mettere giù un parco luci decente per rinnovare quello che io avevo già. Guardando su Amazon ho guardato ovviamente i vari AD400 Pro. Sono un fan di Godox, non so se si fosse capito. Ho tutta strumentazione Godox per il momento, quindi cerco di rimanere su Godox perché così mantengo la compatibilità tra il mio trigger e le luci che ho già. Quindi per questo motivo sono andato a colpo sicuro su Godox e stavo guardando i vari AD400 Pro, piuttosto che la serie QS o un QS400 che mi piace moltissimo per esempio, ne ho uno solo, quindi volevo rinnovare un pochino il parco luci. Mi è cascato l'occhio sulla serie SK. Perché? Perché fondamentalmente ha le stesse caratteristiche o quasi, però costa meno della metà. Quindi ovviamente mi è cascato l'occhio e ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti, potremmo provare a prendere un paio di queste luci qui. Le abbiamo provate e devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso perché le differenze sono veramente minime. Ovviamente abbiamo delle differenze in termini di costruzione, perché ovviamente una luce che costa di più, con le stesse caratteristiche, è costruita meglio. Su questo non ci piove. Abbiamo magari uno chassi più resistente sulla serie QS piuttosto che su altre serie. Tuttavia, al di là della costruzione, che comunque lì è un discorso sempre di come tratti la tua roba, perché se le fai cascare, vabbè, si rompono, però una luce costruita meglio magari ti regge le botte un pochino meglio di una luce costruita male. Queste non sono neanche costruite male, sono semplicemente meno robuste. È ovvio che una cosa meno robusta, se la tratti bene, va benissimo, ti dura lo stesso, la tratti bene, non la sbatti, non le vai a prendere colpi, la smonti con cautela e funzionano benissimo. I modificatori ce li avevamo già, abbiamo utilizzato i soliti Octabox, forse in questo caso ho utilizzato gli stripbox, sempre di Godox, che erano da 60 cm, non mi ricordo più, una misura del genere. Questo semplicemente per dirvi che non abbiamo usato un parco luci stellare, avevamo semplicemente due luci Godox con il nostro trigger e anche per quanto riguarda la strumentazione fotografica vera e propria, non abbiamo utilizzato l'astronave. Come ho già detto in video precedenti, praticamente lo dico a video alterni, uno sì, uno no, ci sono dei casi in cui serve la 5D Mark IV e dei casi in cui invece non serve. Per fare questo shooting abbiamo usato una 7D Mark I, neanche la 2, e una 700D, quindi due APS-C, due sensori crop, perché? Ma per un sacco di motivi diversi. Primo, stiamo usando delle luci flash in un contesto di luce controllata in studio, quindi non ci serve una camera che performi bene a ISO alti, non ci serve, è inutile. Stiamo lavorando a ISO 100, abbiamo pieno controllo su qualunque microbica particella di fotone che si aggira nella stanza e quindi non ci serve lavorare a ISO alti. Lavoriamo a ISO 100 e, ragazzi, a ISO 100 le APS-C rendono quasi tanto quanto una full frame, cioè non c'è tutta sta differenza. Stiamo lavorando con delle lenti carine, perché stiamo lavorando con il 50mm 1.4 e con il 100mm 2.8 serie L, quindi stiamo lavorando con due belle lenti, quindi abbiamo un bel contrasto, una bella nitidezza e lì non c'è sensore che tenga. Se mettiamo una lente del genere e lavoriamo a ISO 100 non abbiamo bisogno della 5D, non ci serve a niente. Avremo un'immagine troppo grande che tanto poi deve essere compressa all'inverosimile, perché deve andare su Instagram e su un e-commerce, per cui facciamo un favore a noi stessi, lavoriamo tranquillamente con una camera di fascia inferiore. Non dico di lavorare con una entry level che magari non arriva nemmeno a 12 bit, però ci siamo capiti. Cioè una PSC medio va benissimo. Organizzazione dello shooting è estremamente semplice. Abbiamo il nostro backdrop bianco, posizioniamo le nostre luci. Le luci in questo caso sono posizionate a 45 gradi, così illuminiamo il prodotto in maniera assolutamente uniforme. Per questo shooting è stato usato il color checker della X-Rite. Non è che ce ne fosse un vero bisogno, perché i prodotti sono prevalentemente bianchi, quindi non c'era una vera necessità di avere una fedeltà sui colori. Anzi, col senno di poi vi direi, in un caso del genere, quando abbiamo prevalentemente bianco e basta, usiamo semplicemente il contagocce per individuare il punto di grigio e il punto di bianco e siamo fondamentalmente a posto. Però in questo caso abbiamo anche utilizzato il color checker della X-Rite. Quindi colori assolutamente accurati. I prodotti vengono fotografati tutti nello stesso modo, perché noi sappiamo già che dopo devono essere messi su un e-commerce e quindi devono essere coerenti fra di loro, devono sembrare tutti uguali della stessa serie, anche con le proporzioni giuste. E perché sappiamo già che dopo devono finire anche in delle grafiche. Quindi devono essere, nella stessa immagine devono venire affiancati, quindi deve esserci assoluta coerenza tra le dimensioni dei vari pezzi e anche tra la loro colorazione. Quindi devono avere tutti, sono tutti bianchi, devono avere tutti lo stesso punto di bianco, ovviamente. Le foto vengono tutte realizzate in piano, quindi posizionando il prodotto semplicemente sul foglio di carta piano viene fatto lo scatto assolutamente frontale, assolutamente simmetrico. Ora, qui viene una cosa molto interessante, perché uno dice, faccio la foto giusta, dritta, simmetrica, quindi in teoria ho finito. Invece no, perché in questo caso e nella maggior parte dei casi in cui abbiamo a che fare con uno shooting di questo tipo, lo scatto non può dirsi finito in questo modo. Stiamo parlando comunque di una fotografia di prodotto, stiamo parlando di prodotti di fascia alta. Non vi nascondo che alcune di queste cose che ho fotografato hanno il loro bel costo, quindi non stiamo fotografando un lecca lecca, capito? Per questo motivo il prodotto deve essere fotografato bene, deve essere privo di imperfezioni. Allora, che cosa succede? Prima cosa, nel momento in cui fotografiamo un oggetto su fondo bianco, è un oggetto bianco ed è un oggetto riflettente, purtroppo quello che succede il 99% delle volte è che il nostro oggetto riceve la stessa quantità di luce del backdrop, se non di più, perché il nostro oggetto è riflettente, mentre il backdrop no. Quindi che cosa succede? Che noi illuminiamo la scena nella maniera corretta, perché abbiamo impostato il set in questo modo, l'illuminazione pertanto è corretta, ci dà l'effetto che vogliamo, ma che cosa succede? Il nostro oggetto è più bianco dello sfondo, quindi non abbiamo uno sfondo perfettamente bianco, perché a meno di non bruciare i dettagli del nostro oggetto, del nostro flacone, della nostra pomata, di quello che è, a meno di non bruciare i dettagli, il nostro sfondo non sarà bianco, ma sarà più scuro del bianco, sarà grigio. Quindi prima cosa da fare, tanto anche questo lo dico un video sì e l'altro pure, scontornare, scontornare con la penna, scontornare bene. Ragazzi ve lo dico qui e ve lo dico una volta sola per la durata dell'intero video, qualunque cosa farete in un lavoro di questo tipo, se avete cannato lo scontorno, tanto vale che prendete e buttate via tutto il lavoro. Uno scontorno fatto bene può far sembrare professionale anche una foto fatta col telefono, o una foto fatta male. Ovviamente una foto fatta con tutti i sacri crismi, scontornata con i piedi, farà schifo. Quindi scontornatela bene, perdeteci quei 30 secondi, perché non ci si mette tanto a scontornare un barattolo di crema, ci si mette 30 secondi. Fatelo bene, fatelo una volta sola e quello scontorno vi durerà per l'intero lavoro. Andiamo quindi a scontornare tutti i nostri prodotti, non fate quella faccia, lo so che è noioso, ma vi assicuro che a scontornare l'intero pack di prodotti ci avrò messo non più di un'ora, a fare una ventina di prodotti. Quindi direi che è tempo speso bene. Una volta che abbiamo scontornato i prodotti, quindi ci siamo sbarazzati dello sfondo bianco, adesso abbiamo il nostro prodotto che è bianco, che comunque lieve tendenza al grigio perché non vogliamo bruciare i dettagli in fase di scap, però è bianco, lo mettiamo sul bianco puro 100%, così risalta bene. Adesso volendo possiamo regolarlo un attimino, possiamo schiarirlo fino ad arrivare alla perdita di dettaglio e tornare un pochino indietro, oppure possiamo lasciarlo così a seconda dei casi e di come lo vogliamo utilizzare. Nel mio caso io l'ho mantenuto prevalentemente così. Una cosa però che ho fatto, in questo momento mi ritrovo con il mio prodotto scontornato che non è perfetto, perché per quanto io possa essere attento a posizionarmi con il cavalletto, la perfezione geometrica in uno scatto fondamentalmente non esiste. La precisione millimetrica si ha solamente a computer. Per questo motivo io una volta che ho scontornato le mie foto mi occupo di raddrizzarle, perché magari sono un pelino storte, perché io posso mettermi lì con la bolla, però il mio cavalletto può non essere drittissimo, il pavimento può essere lievemente inclinato, il tavolo può essere lievemente storto, il mio prodotto può essere lievemente asimmetrico, perché guardate che i prodotti che ci mandano le aziende non sono sempre perfetti, a volte il difetto è proprio nel prodotto. Ora, non è questo il caso, queste fiale erano perfette, però vuoi o non vuoi, magari il cavalletto, magari il tavolo, magari l'inclinazione, io cerco di mettermi dritto, ma la precisione assoluta geometrica non è possibile. Quindi mi metto a computer, raddrizzo il mio prodotto, lo metto a perfezione geometrica e lo metto a simmetria digitale, nel senso che mi creo delle guide, metto il mio prodotto in griglia e dopodiché lo deformo lievemente, perché mettendolo in griglia mi rendo conto che sembra deformato come è stato scattato. Quindi io deformandolo lievemente con l'opzione trasforma e deforma, lo deformo e lo rendo geometricamente perfetto. Così è la precisione assoluta, perché in questo modo è giusto, è dritto ed è digitalmente corretto. È una foto che è quasi impossibile fare a mano libera così pronti via, per cui si ricorre a questo trucchetto. Un'altra cosa che vado a fare, in questo caso alcuni dei prodotti presentavano dei difetti che possono essere il pelucco che ci si adagia sopra in fase di scatto, il granello di polvere, ovviamente scattando con i flash e scattando con i flash a 45 gradi, soprattutto queste imperfezioni vengono fuori tutte. È come quando facciamo un ritratto con la luce a 45 gradi, se ci sono dei dettagli, delle imperfezioni della pelle, comunque vengono portate fuori da questo tipo di illuminazione. La stessa cosa succede con la polvere. Quindi ho eliminato con timbro clone, riempi in base al contenuto, pennello correttivo al volo, tutti gli strumenti che ho a disposizione li ho utilizzati a seconda dei casi per ripulire i nostri prodotti. C'erano delle cose che erano da sistemare, per esempio nel caso delle fiale trasparenti. Nel momento in cui noi abbiamo una fiala trasparente e abbiamo del testo che gira intorno alla fiala, ovviamente lo vediamo attraverso la fiala, per cui vediamo il testo che gira dietro. E oltre a essere bruttissimo, ci rende completamente illegibile il davanti. Purtroppo in questi casi non sempre è possibile farsi mandare delle fiale nude dall'azienda. Quando l'azienda ci manda dei prodotti nudi senza nessun tipo di scritta, noi fotografiamo il prodotto senza niente e lì è una bella sfida mettere a fuoco perché la camera non ce la fa, quindi bisogna farlo a mano. Se non c'è niente, non c'è contrasto, i punti di messa a fuoco non ce la fanno. Quando l'azienda non ci manda i prodotti nudi, bisogna andare a provvedere in un altro modo. Per cui quello che è stato fatto è che tutto quello che era scritto sopra il flacone, sia davanti sia dietro, è stato cancellato. Qua timbro clone a manetta e tanta pazienza con i pennelli. Questo sì che è noioso, altro che scontornare. Se pensavate che scontornare fosse lungo, vi voglio vedere adesso. Tutte le scritte vengono eliminate dal prodotto, sia davanti sia dietro. In questo modo ci ritroviamo con il nostro prodotto fotografato su sfondo bianchissimo con tutte le scritte rimosse. Praticamente abbiamo la fiala nuda, come avremmo dovuto avere inizialmente. Praticamente siamo di fronte a un prototipo di mock-up, nel senso che adesso possiamo applicarci sopra quello che vogliamo noi. Un'ulteriore cosa che faccio molto spesso in questi casi, non so se ci si fa caso già a occhio nudo, vi assicuro che ingrandendola questa cosa diventa molto più evidente. Quando noi fotografiamo un prodotto, non è perfettamente simmetrico perché comunque ha dei micro difetti e perché comunque la nostra selezione del prodotto fatta con la penna non è uguale sui due lati. Perché vuoi o non vuoi la stiamo facendo praticamente a mano libera, per cui non è assolutamente identica. Una cosa che io faccio in questo caso per risolvere questo problema è che prendo il mio flacone, lo divido in due, cancello una delle due metà, prendo l'altra metà, la duplico e la specchio dall'altra parte. In questo modo abbiamo il prodotto specchiato che è perfettamente identico. In questo modo abbiamo veramente la perfezione totale nel nostro scatto. L'abbiamo già pulito, quindi è pulito perfetto. Abbiamo specchiato, scegliamo la parte buona ovviamente, se c'è una parte con più difetti scegliamo l'altra. Teniamo buona la parte migliore del nostro prodotto, la specchiamo e così abbiamo un prodotto che bello così, ve l'assicuro il vostro cliente non l'ha mai visto, perché non esiste. A questo punto trattiamo la nostra foto proprio come faremo con un mock-up, ovvero chiediamo al nostro cliente i loghi, le serigrafie in formato digitale, in PDF o in EPS o meglio ancora in Illustrator, così c'è la massima compatibilità se come me utilizzate la suite di Adobe. Andiamo a collocare logo, serigrafie, testini, tutto quello che dobbiamo mettere, li andiamo a collocare sopra la nostra immagine, andiamo poi ad agire come meglio crediamo, perché esistono diversi metodi per deformare un'immagine in sovraimpressione in maniera tale da rendere l'idea che sia circolare, che sia stampata sopra un prodotto cilindrico. Quindi non possiamo ovviamente sbatterlo lì e fregarcene così perché sennò si vede che è incollato. Mettiamo sopra, lo deformiamo quanto basta, cerchiamo di matchare, di farlo corrispondere con la fotografia originale in modo da avere una riproduzione fedele di quello che è il prodotto. Ovviamente non lo mettiamo in una posizione random ma cerchiamo di metterlo, di dimensionarlo giusto e di metterlo esattamente dove dovrebbe essere. In questo modo abbiamo un prodotto che non solo è credibile ma è meglio del prodotto stesso originale perché noi abbiamo tolto tutti i difetti e addirittura le scritte hanno la precisione vettoriale nella nostra fotografia. Quindi abbiamo una fotografia di una perfezione che è pari a un render digitale sostanzialmente. Però è più bello perché è fotografato e comunque la percezione della grana fotografica del pixel e della color science del produttore con cui abbiamo scattato è assolutamente presente nell'immagine. Nel mio caso color science di Canon io sono un grandissimo fanboy di Canon quindi mi piace molto la resa del sensore la resa dei colori del sensore di Canon quindi mi piace che si veda questa cosa nei miei prodotti. Preferisco realizzare una fotografia di questo tipo piuttosto che prendere un mockup o realizzare un render anche perché sono molto più bravo a fare una foto di questo tipo piuttosto che a fare un render. Inoltre il render per quanto sia più versatile perché il render lo si può ruotare è un elemento 3D lo si può adattare a mille contesti è più facile lavorare con un elemento 3D piuttosto che con una fotografia però io non sono un progettista 3D non sono un renderizzatore 3D non è il mio pane quello quindi farei più fatica a farlo inoltre mi mancano gli strumenti per farlo in maniera professionale e poi soprattutto se ne valesse la pena imparerei ovviamente se per me ne valesse la pena per i miei clienti per quello che mi pagano lo imparerei a fare ma il risultato è che il mio cliente preferisce una foto invece perché con la foto ha la percezione che il suo prodotto sia vero, reale, tangibile con il mock-up con il render si ha sempre un po' quest'idea di una cosa quasi virtuale perché lo vedi che non esiste lo vedi che è finto quindi con la fotografia si cerca di dargli qualcosa in più anche se a volte ci si mette di più e anche se a volte si fa una fatica che sembrerebbe inutile come questa di trasformare il prodotto in un mock-up per poi ritrasformarlo in quello che era originariamente vedete il risultato alla fine è assolutamente superiore per quanto riguarda la qualità ovviamente non vi sto neanche a dire che purtroppo questo giochino l'ho dovuto fare per più di un prodotto quindi ripeto se avevate paura di perdere tempo scontornando le cose vi voglio vedere adesso a fare tutto questo lavoro qua a questo punto è il momento di divertirsi un pochino perché nonostante le mie foto siano state scattate in maniera corretta è il momento di dare un pochino di tridimensionalità al prodotto questo si fa semplicemente aggiungendo un livello di regolazione mediante il quale io vado a schiarire o scurire il prodotto dopodiché applico un gradiente su metà dell'immagine in maniera tale da dargli una bella sfumatura una volta fatto questo è sufficiente selezionare l'altra metà del prodotto dare più o meno lo stesso gradiente in maniera tale da dare un po' di tridimensionalità al nostro prodotto può sembrare che sia retroilluminato oppure illuminato dal fronte possiamo switchare tra le due opzioni semplicemente invertendo la maschera di livello quindi la maschera del nostro livello di regolazione viene invertita con command i o control i se siete su pc potete invertirla per vedere che effetto vi fa sono carini entrambi su un prodotto circolare possono darvi un bel effetto entrambi i risultati siamo a buon punto con la nostra lavorazione perché a questo punto abbiamo i nostri prodotti scontornati con già il loro tracciato di ritaglio una cosa che non ho menzionato ovviamente noi abbiamo deformato e specchiato i prodotti quindi il tracciato che abbiamo fatto originariamente per scontornarle non va più bene attenzione perché noi abbiamo scontornato un prodotto che aveva una certa forma dopodiché l'abbiamo deformato e l'abbiamo specchiato tagliandolo a metà quella forma adesso è sbagliata non è più corrispondente quindi facciamo questa cosa abbiamo l'accortezza di selezionare tutti i pixel esistenti della nostra immagine del nostro prodotto magari consolidiamo tutti i livelli così abbiamo tranne lo sfondo consolidiamo tutti i livelli così da avere il nostro prodotto svolazzante premiamo command e clicchiamo sopra l'anteprima del nostro livello così selezioniamo i pixel esistenti andiamo nelle opzioni dei tracciati cancelliamo il tracciato precedente e ne creiamo uno nuovo e lo impostiamo lo salviamo se no non viene memorizzato e lo salviamo come tracciato di ritaglio in questo modo noi possiamo tranquillamente salvare la nostra immagine come jpeg non abbiamo bisogno di salvare il psd salviamo come jpeg perché tanto ha il tracciato incorporato per cui nel momento in cui noi la apriamo con photoshop possiamo riselezionare il tracciato e abbiamo il nostro scontorno subito già fatto senza però bisogno di salvare un psd che pesa di più avuta questa accortezza possiamo passare a comporre quella che sarà l'immagine finale che potrà essere un banner per il sito web o potrà essere un post per i social come dicevo prima nel momento in cui noi abbiamo le nostre immagini scontornate andiamo semplicemente a scegliere un'immagine di sfondo che di solito viene concordata con il cliente così come viene concordato il posizionamento del logo perché a seconda della tipologia del posizionamento dell'immagine ci sarà un logo magari diverso una versione diversa del logo dell'immagine coordinata dell'azienda messa in punti diversi della nostra immagine se si tratta di un post quadrato per Instagram si tende a mettere il logo centrato in alto e in basso per esempio nel caso di un banner per il sito web invece è possibile che il logo venga posizionato in uno degli angoli a seconda del posizionamento questo viene concordato di volta in volta con il cliente nel caso dell'immagine che vi faccio vedere si tratta di post per i social media quindi abbiamo i nostri prodotti disposti in maniera più o meno realistica nel senso che vengono posizionati su uno sfondo che viene scelto arbitrariamente di volta in volta a seconda dell'argomento su questo sfondo viene eseguita un pochettino di post produzione supplementare nel senso che quando io ho un prodotto scontornato e svolazzante non posso sbatterlo lì così perché si vede che è scontornato e svolazzante e fa schifo nella realtà voi non avete mai visto un prodotto scontornato e svolazzante credetemi perché se l'aveste visto vi sareste resi conto che quell'oggetto non può esistere in quel modo in quest'universo qualunque oggetto fisico genera delle ombre per cui se io vedo un oggetto che non genera delle ombre mi domando ma quell'oggetto esiste davvero? ovviamente la gente da casa non arriva a fare questi ragionamenti però ha la percezione di qualcosa che non va e questo qualcosa che non va è nel nostro lavoro non abbiamo lavorato bene quindi cerchiamo di lavorare bene quando mettiamo degli oggetti in una composizione dobbiamo creargli delle ombre in maniera tale che sembrino collocati nello spazio tridimensionale o bidimensionale che sia in cui le vogliamo collocare nel caso di questa immagine che vi faccio vedere ho ridisegnato una per una le ombre di tutti i prodotti nella maniera più realistica possibile tenendo conto della direzione della luce dell'immagine in cui ho collocato i prodotti ovviamente questo tipo di lavoro non sarà mai perfetto perché sapendo in anticipo cosa che io non posso sapere anche perché i prodotti poi di volta in volta vengono messi con immagini di sfondo diverse sapendo in anticipo quale sarebbe stata l'immagine di sfondo io avrei potuto illuminare i miei prodotti in un certo modo se io avessi saputo che venivano messi su una foto con una retroilluminazione avrei retroilluminato i prodotti per renderli più credibili questo non è stato possibile e sono stati fotografati in maniera tale da poter essere utilizzati più o meno sempre in ogni contesto anche perché la prossima volta che userò le stesse foto con un altro sfondo magari non saranno retroilluminati quindi renderanno meglio ovviamente se fosse una foto una tantum io andrei a cercare di matchare quella che è l'illuminazione se ho una foto con il sole dietro vado a mettere un flash dietro al mio soggetto scontornato in modo che la luce sul mio corpo principale corrisponda a quello dello sfondo in questo caso non è stato possibile si cerca comunque di rimediare matchando le ombre quindi si disegnano delle ombre che vadano a stagliarsi dentro nel nostro universo tridimensionale che andiamo a cercare di ricreare e che matchino la luce che viene da dietro quindi abbiamo queste ombre che in qualche maniera collocano i nostri prodotti all'interno di questo spazio sono assolutamente essenziali altrimenti senza avremo la percezione di un collage fatto male quindi è molto importante ed è per questo che la selezione all'inizio è importante perché quando noi abbiamo un prodotto su sfondo bianco abbiamo fatto la selezione da cani non ce ne si accorge bianco su bianco non si vede provate ad andarla a mettere in una manipolazione una selezione fatta male vi rovina l'intero lavoro e lì si vede se avete lavorato bene per questo motivo siccome non sapete se il cliente poi magari vi chiede una manipolazione magari ve la chiede a posteriori ma comunque anche solo per noi stessi per avere la sensazione la certezza di aver lavorato nella maniera corretta facciamo la selezione nella maniera corretta così quando il nostro cliente ci chiederà una roba strana di mettere dietro uno sfondo di un colore diverso noi ce l'abbiamo già pronta altrimenti la dobbiamo rifare di corsa perché sennò siamo in ritardo sulla consegna meglio evitare andiamo quindi a ricreare le ombre andiamo anche a fare un minimo di color matching perché magari la nostra foto di sfondo ha una colorazione diversa da quella che avevamo noi in studio per cui andiamo a cercare di bilanciare le due cose cercando di rendere il bianco più uniforme possibile andiamo a vedere anche in questo secondo esempio questo secondo esempio è stato più semplice volendo perché qui non ho dovuto ridisegnare tutte le ombre da zero ho semplicemente dovuto applicare l'ombra esterna su tutti i prodotti nello stesso modo sono andato a selezionare un colore scuro dalle ombre dell'immagine di sfondo così abbiamo l'ombra nell'immagine di sfondo e l'ombra sotto i nostri prodotti che è dello stesso colore ho cercato di capire da che direzione proveniva la luce e quindi ho posizionato l'ombra di conseguenza in questo caso è stato più facile però anche qui ricordatevi che se non mettiamo le ombre avremo solamente un collage fatto male e un prodotto scontornato con un'ombra sotto se c'è il bordino bianco se abbiamo scontornato male se si vedono i pixel fa schifo ragazzi fa schifo quindi scontornateli bene questi prodotti ma non dovete farlo per me dovete farlo neanche per il vostro cliente dovete farlo per voi perché nel momento in cui qualcuno valuterà il vostro lavoro che idea si farà di come lavorate dirà questo lavoro è sciatto perché si vedono i pixel oppure dirà questa persona lavora bene questo dipende da voi diciamo che siamo arrivati al termine del nostro lavoro nel senso che abbiamo impacchettato uno shooting di still life fatto a regola d'arte perché alla fine di questo si è trattato con tutti i sacri crismi con anche scontorno fatto bene assoluta perfezione simmetrica dei prodotti che sono stati addirittura ripuliti da tutte le scritte le serigrafie i loghi i loghettini le balle varie sono stati ricreati in vettoriale tutti gli elementi dell'etichetta che dovevano essere applicati sui prodotti questo tipo di precisione è una cosa che poi il cliente comunque nota perché il cliente se ne rende conto di averci dato una fiala trasparente che faceva non schifo in sé ma fotograficamente faceva schifo nel senso che non si legge non si leggeva niente quindi il cliente se ne rende conto del miglioramento che abbiamo fatto sul suo prodotto senza chiederglielo non c'è stato detto di fare questo lavoro c'è stato detto di fargli le foto fatte bene io non devo non ho bisogno che il mio cliente mi dica come devo fare bene il mio lavoro io so come deve essere un prodotto fotografato bene quindi siccome da un lato mi piace perché è il mio lavoro dall'altro io ci tengo a fare colpo sul mio cliente perché così mi richiama gli propongo una cosa fatta al massimo delle mie possibilità quindi anche se non me l'ha chiesto io ho questa accortezza di rendere il suo prodotto più bello di come lui stesso è abituato a vederlo e questo farà la differenza nel procurarvi altri clienti e nel tenervi quelli che avete già abbiamo quindi reso le sue immagini le sue foto still life più perfette possibile abbiamo fatto assolutamente il massimo che era nelle nostre capacità per rendere al cliente uno shooting di perfezione pressoché totale senza ricorrere ai render la perfezione totale sia solo con i render ma questo volendo è meglio perché comunque è un prodotto più caldo di un render con le sue minime imprecisioni micro imperfezioni assolutamente invisibili ma comunque percettibili da un osservatore che ovviamente non fa questi ragionamenti però si fa un'idea del brand attraverso le immagini quindi abbiamo restituito al cliente queste foto che vengono consegnate in formato jpeg col tracciato di ritaglio quindi per tutti gli utilizzi futuri e per l'e-commerce viene consegnato anche un file con la grafica così come è stata concordata con i prodotti scontornati la nostra manipolazione e l'immagine pronta per il post di instagram di facebook o quello che è l'utilizzo che intende farne il cliente cose da dire su questo shooting non ce ne è tante altre si tratta paradossalmente di un lavoro maniacale nel senso che per fare questo tipo di cose dovete essere pazzi dovete essere completamente pazzi e avere voglia di farlo se lo fate contro voglia non viene bene non viene bene perché non perché non vi state divertendo non è obbligatorio divertirsi per fare queste cose io mi diverto a me piace questa roba io mi sono divertito a fare questo lavoro perché io sono fatto così voi potete fare questo lavoro anche senza divertirvi però dovete avere voglia di farlo perché se lo fate contro voglia finisce che la selezione la fate con la bacchetta magica e già non va bene se non avete voglia finisce che la correzione colore non la fate e non va bene se non avete voglia finisce che invece di usare i flash fate la foto col telefonino sul tavolo perché dite tanto poi la scontorno viene bene uguale sommiamo errori a errori a errori perché non abbiamo voglia perché stiamo solo pensando voglio levarmi sta roba di torno e c'è il cliente che mi ha chiesto sta roba e non gliela voglio fare voglio andare a fare la pericena se ragioniamo così faremo un lavoro per cui il cliente potrebbe anche richiamarvi ma solo perché io costo troppo e quindi torna da voi è questa la cosa se voi avete lavorato male l'unico motivo per cui un cliente può rimanere da voi è perché non ha alternative o perché non vuole investire di più perché se lavorate così comunque lo state facendo pagare poco non crediate di strappargli delle cifre da capogiro lavorando in questo modo perché è stupido che possa essere il cliente che magari certe cose non le capisce ma i pixel li vedono tutti il mio consiglio ovviamente è di lavorare bene lavorate bene per voi stessi perché un cliente magari può anche non rimanere da voi anche se avete lavorato bene magari costate troppo a me capita anche che il cliente mi dica guarda io con te mi trovo bene ma tu costi troppo io gli sospiro e gli dico Gianluca ti capisco quando potrai permettertelo tornerai ci sono dei casi in cui magari si fa lo sconto clienti di lunga data magari che dicono guarda c'è la crisi tutto chiuso magari un momento così di difficoltà io lì posso anche arrivare a dirgli come ho fatto con clienti storici però con clienti che sono anche in qualche maniera non dico amici ma di cui si ha reciproca stima posso anche arrivare a dirgli senti sto mese va da sé che non me lo paghi questo lo posso fare ma è una decisione mia è una decisione mia un cliente che invece mi viene a dire guarda tu costi troppo generalmente la mia risposta è semplicissima Gianluca mi spiace ti posso consigliare qualcuno che costa meno perché veramente te lo posso consigliare ovviamente non ti dà le stesse cose non ti dà la stessa cura non ti dà la stessa attenzione non ci mette lo stesso tempo a fare le cose io ci metto del tempo a fare queste cose se vai da uno che costa meno probabilmente ci sta mettendo meno perché ci mette meno perché sta investendo meno tempo per farti il lavoro sta usando la bacchetta magica sta scattando magari senza i flash sta scattando semplicemente su un backdrop e poi scontorna così alla buona magari non sta usando il color checker magari non sta matchando i colori magari non ti sta ridisegnando le ombre magari tutte queste cose insieme per cui il discorso è sempre quello forse io costo troppo ma a te imprenditore quanto costa avere un lavoro fatto male da un altro che costa meno è sempre lì la cosa è così bisogna ragionare con i clienti io cerco di tenermi più o meno tutti i clienti perché comunque ho piacere ad averli e a lavorare con loro se me li sono tenuti se no non erano clienti per me comunque se non avevo piacere a fargli le cose perché se deve essere una cosa pesante che gli faccio male non è il modo migliore di iniziare una relazione di lavoro il fatto di avere la pesantezza di dovergli fare il lavoro il lavoro deve essere questo tipo di lavoro legato all'immagine deve essere in qualche maniera gioioso deve essere giocoso deve essere una cosa fatta bene con i sacri crismi e ragazzi guardate il ditino no arte non siamo artisti se volete guardare fotografie artistiche andate sul canale di qualcun altro qui si parla di lavoro quindi stiamo parlando di precisione e di affidabilità tuttavia nell'essere precisi e affidabili bisogna anche metterci un minimo di giocosità di gioco in questa cosa perché per me è un gioco questo è una cosa divertente che mi piace e mi appassiona è come suonare uno strumento mi dispiace fare sempre questo paragone purtroppo io sono un ex musicista quindi mi viene facile fare questo paragone è evidente che nel momento in cui io suono una canzone suono uno strumento sì va bene mi sto divertendo sto suonando la canzoncina però se la suono male è divertente solo per me gli altri intorno si tappano le orecchie ci vuole precisione quando si suona una canzone ci vuole rigore ci vuole tempo ci vuole tecnica sono le stesse cose che ci vogliono anche per fare un lavoro di questo tipo può essere divertente quanto volete però ci vuole tecnica e studio per arrivare ad avere dei risultati come questi voi siete fortunati perché vi ho già svelato quasi tutti i miei segreti in questo video per realizzare un lavoro di questo tipo quindi adesso l'unica cosa che vi manca per essere al mio stesso livello è il tempo da dedicargli per avere la mia stessa esperienza e la voglia di farlo io la mia voglia la conosco voi quanta ne avete ragazzi con questo è tutto vi ho tediato abbastanza per oggi vi lascio semplicemente con la raccomandazione di cliccare il tasto iscriviti sul mio canale perché ci saranno altri aggiornamenti sempre di tema fotografico ma anche grafico digitale in generale cose che se avete guardato questo video possono assolutamente essere di interesse per voi per cui io fossi in voi attiverei anche la campanella e lasciate un like se non l'avete ancora fatto con questo io vi auguro tutto il bene del mondo e vi do appuntamento alla prossima iscriviti al canale